Le speranze sono finite tutte. Nessuna attività cerebrale per il neonato scosso violentemente dalla mamma che lo stava cercando di calmare perché piangeva da ore. Il piccolo di appena cinque mesi, in coma da sabato nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova, è stato sottoposto venerdì mattina ad un accertamento particolare, una spec cerebrale che ha rilevato l'assenza di flusso nella corteccia e nel tronco. I medici hanno subito attivato la commissione che dovrà valutare in queste ore la morte cerebrale. Un iter doloroso che richiederà molto tempo. Noi abbiamo verificato l'assenza di flusso sanguigno al cervello. Questo ci ha permesso di dare l'avvio alla commissione che deve accertare effettivamente la morte cerebrale. Questo consisterà in alcuni esami neurologici che la commissione ad hoc deve fare, che dovranno essere ripetuti a distanza l'uno dall'altro per verificare i reperti. Una volta che questi certamente hanno verificato l'effettiva morte cerebrale, cioè l'assenza di quelli che sono i riflessi vitali, allora saremo autorizzati a sospendere il supporto che noi diamo a questo bambino per sopravvivere. Il neonato era arrivato in ospedale in braccio a mamma e papà disperati perché non respirava. La mamma in lacrime ha detto di averlo cullato troppo forte perché piangeva da ore. Poi, quando si è calmato e lo ha adagiato sul lettino, si accorta che non respirava. Una versione ripetuta anche davanti ai carabinieri che l'hanno interrogata insieme al marito. Le accuse per lei, 29 anni, originaria di Bassano del Grappa, ma residente a Mestrino, potrebbero aggravarsi da lesioni gravissime ad omicidio colposo. È una donna distrutta e sotto shock, ci ha detto l'avvocato Leonardo Massaro, che la difende. Ha agito in completa inconscienza, un blackout che ha portato alla tragedia. Siamo persone fragili che possono essere messe duramente a prova da situazioni come può essere il pianto continuo di un bambino che interrompe ripetutamente il sonno. Il messaggio è questo di essere consapevoli che ci possono essere questi momenti di debolezza e allora prendere un grande respiro, lasciare il bambino piangere, magari uscire dalla stanza. Essere consapevoli di questa debolezza e del bisogno che tutti noi abbiamo di ricaricarci in un modo o nell'altro. In questi giorni che dovevano essere di festa per la famiglia, la mamma non ha voluto staccarsi dal suo piccolo in ospedale. Nella casa di Mestrino invece è rimasta l'altra figlia della coppia, una bambina di un anno e mezzo affidata temporaneamente ai nonni paterni, anche loro stravolti da un dolore immenso. Il Tribunale dei Minori ha deciso così per tutelare la piccola.